carissimi spettatori altro appuntamento con il momento politico ormai siamo agli ultimi giorni prima delle votazioni e siamo in collegamento con moreno colombo candidato al consiglio nazionale per il plr partito liberale radicale abbiamo visto una tua bellissima missiva datata giugno 2023 una missiva nella quale addirittura tu ti definisci un sognatore tuttavia ciò che vorresti basandosi sempre su ciò che hai scritto in quella lettera con un po di impegno sarebbe tutto realizzabile per esempio io vorrei partire da alp transit non mi sembra una cosa così irrealizzabile no poter vedere finalmente i collegamenti tanto agognati secondo te cos'è che non sta funzionando e cosa si potrebbe fare a berna per realizzare il famoso pezzo mancante ma partiamo da prima che politica per concretizzare ci vogliono comunque degli anni e noi soffriamo tantissimo soprattutto nel medrisotto perché ora da diversi anni che non abbiamo più deputati che provengono dal nostro distretto è stato marco romano di medrisio poco tempo fa lui già lui ha dovuto lottare per intercity speriamo di riuscire ad aumentare un po la deputazione del medrisotto perché fa tanto anche eh chi proviene da una regione e l'al transit deve proseguire a sud di Lugano ma l'interesse è per tutta la Svizzera ma noi evidentemente ne soffriamo in gran parte di questa mancanza di questa struttura monca chiamiamola così e pertanto bisognerà eh comunque intensificare la la progettazione e puoi mettere in atto anche i soldi per poter realizzare e poi iniziare l'opera quindi eh vi è veramente molto molto da fare e comunque ce l'aspettiamo tutti e deve essere una priorità per la Svizzera per il Ticino e per sicuramente il medrisotto Perciò che i due giorni si i due anni è molto passato per percebre che i due giorni sono tanti diCarabra, Sul Louatri e che i due giorni sono un 불c chose ia merito di fatto sia che c'è abbia piùonde la realtà bassa e quindi si tratta di pers стар cinema